eccoci qua primo video di oggi siamo in ritardo di 25 minuti incidenti di percorso anzi ancora non avevamo iniziato ragazzi abbiamo recuperato l'ultimo elemento quello lì con la maglia arancione che è anche appena caduto però non si è fatto niente non si è fatto niente l'alessandro c'è la pellaccia dura adesso siamo ancora sul villoresi ed è la strada la parte di strada che conosco quando inizierà quella che non conosco inizia l'avventura gli altri magari non saranno così contenti però loro non lo sanno ancora aggiornamento sono le 9 08 e abbiamo fatto poco più di dieci chilometri ma stai zitto io c'ho occhi ovunque sono contro luce ma si vede bene i san pietrini che porca di quella porca di quella qua ciao ragazzi come va ma gli altri due dove? ah ok ci sono vabbè guardate che bel percorso che facciamo vabbè adesso è finita la parte sterrata però è stato bello in mezzo ai campi piuttosto che con le macchine manca un chilometro eh quindi siamo quasi arrivati oh porca trova stavo per perdere il manubrio eccoci qui siamo arrivati entriamo vabbè dai che carino c'è anche l'ombra qua bello lì ma è chiuso ma porca qui ci sono rubati una panchina oh lì c'è un gazebo c'è una panchina accartocciata lì qui? sì sì ci sta cioè a me va bene ci piazziamo allora guardiamo aspettate è sudato è vero? è tutta acqua è sopperto la borraccia ok allora 1 ora e 42 minuti 25 chilometri precisi bella merda è vero siamo passati nel mercato eh vabbè dai comunque chi se ne frega quindi oggi faremo 50 chilometri con 3 ore e 20 di pedalata ritorno andiamo a manetta ci siamo piazzati guardate la testa di pede mi fai una mia mano di testa allora ragazzi stiamo ordinando un menù kebab con anche scipolla e piccanto però non so se sta capendo benissimo il ragazzo eh per ora siamo ancora fermi al rome consegnate qua abbiamo ancora ordinato l'unico sono metti smervanti eccoci qui ragazzi no salsa menù kebab si sono fatte comunque l'una ma anche grossi erano le 12 e 20 sono belli grossi meno male 7,50 mica sei il menù qua vabbè però almeno uno si sente l'inflazione allora ragazzi stiamo mettendo via ci stiamo preparando per il viaggio di ritorno ci abbeveriamo un po' glu 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 eh ma l'acqua va sempre bene anche da calda ragazzi siamo ripartiti sono poco dopo le 3 adesso facciamo la stessa strada dell'andata e torniamo a casuccia forse ci fermiamo a mangiare un gelatino a limbiate che gusto è che dobbiamo provare di gelato? non lo so io ho stato un gusto in mente che inizia con pi e finisce con ino vabbè Ale si prende sempre il pino pinguino ciao ciao parco cuffanti ti sta scomparendo tanga tanga in mezzo alle chiappe lì avanti c'è limbiate quindi siamo praticamente arrivati sono più o meno le 16 e 20 dicono di essere stanchi qui dietro siamo in sella da 2 ore e 50 più o meno compresa l'andata ecco qua limbiate appena avarcato il confino se volete limbiate adesso ci prendiamo un gelato qui da siamo tornati a casa morti no 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 guarda ti faccio vedere anche siamo morti vediamo siamo in ritardo di un attimino un attimo ok rifaccio eccoci qua grazie a tutti